Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Biazzacu e io sono Tatsuno. Amico mio, oggi parliamo del Napoli, in particolare di Giacomo Raspadori. Si è parlato in questo periodo ultimamente del ruolo che dovrai ricoprire nella formazione di Garcia, ci sono tante idee contrastanti su se deve fare l'attaccante, se deve fare l'esterno, se deve fare la mezzala, se deve fare il trequartista, la seconda punta di Travvictor, quindi ci sono vari pensieri, varie discussioni che hanno fatto. Prima però vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che carichiamo. Mi raccomando, seguiteci su Instagram, Senza Giri di Parole, adesso metti pausa, vai su Instagram, Senza Giri di Parole, segui e poi torni qua, giovaniente, tre secondi. E se volete lasciate un like e un commento sull'argomento, perfetto. Allora, domanda che ti pongo da Tatsuno è, secondo te Giacomo Raspadori? E' così tanto un pesce fuor d'acqua quando gioca da esterno, sinistro, destro, come si dice ultimamente. Sono pesci fuor d'acqua gli opinionisti che commentano sui giocatori parlando delle loro posizioni e purtroppo anche i tifosi, però i tifosi hanno il diritto di sbagliare perché sono tifosi, quindi ragionano per lo più emotivamente, soprattutto non è richiesto loro conoscenze tecniche. Senza, appunto, commentano sotto i nostri video, grazie ragazzi, e poi si discute liberamente. Però io propongo un'idea che incredibilmente oggi è diventata rivoluzionaria da noi, in Italia, perché sappiate questa cosa, negli altri paesi non esiste, perché se Kimmich lo mettono difensore centrale nessuno si fa prendere pazzo in Germania, è una cosa normale, e non era così prima nel nostro paese. Però io propongo quest'idea rivoluzionaria, perché non guardiamo ai giocatori come giocatori e non come le posizioni che giocano? Perché, per esempio, io non mi ricordo, forse una memoria mi inganna, quindi qualcuno mi correggerà, io non mi ricordo che quando Zanetti giocava ci si lamentava che una volta facesse l'esterno, una volta il terzino, una volta il centrale di centrocampo, una volta il difensore centrale, perché Zanetti era Zanetti e sapevi che, in base a quello che gli chiedeva l'allenatore, quello faceva. Io correggo anche una cosa che ho sentito dire molto spesso, cioè che Raspadori è una punta nell'Italia e può fare solo la punta perché lui è brava a fare solo quello. Ragazzi, Raspadori fa la punta perché non abbiamo nessun altro. Ma io non voglio togliere niente a Raspadori, però voi siete pure molto simpatici quando vi immolate in queste dichiarazioni, perché abbiate pazienza, ma Raspadori l'anno scorso l'ha avuto Spalletti, l'ha voluto mettere punta, ma chi ha fatto giocare davanti a Raspadori? E non mi dite che ha giocato un fenomeno, perché se Scamacca quest'anno all'Atalanta fa 20 gol, Spalletti mette titolare Scamacca e mette Raspadori o esterno se ha una necessità, o lo mette mezza punta o lo mette Panchinaro. Non vi credete che è diventato adesso il più grande fan Spalletti di Raspadori, perché è normale che se tu hai la punta, per fortuna o purtroppo, ma se tu hai la punta che fa tanti gol eppure è alto, è fisicato, tu lo preferirai al giocatore brevilinio. È sempre così e sarà sempre così. Il motivo per cui Raspadori ha giocato punta nell'Italia è che immobile non lo potevi rimettere e poi anche se l'avessi rimesso non è l'immobile che abbiamo conosciuto negli ultimi dieci anni, anche se comunque in Italia immobile non è mai stato niente di che. Certo non ha fatto i 30 gol di media che faceva la Lazio, è perché non c'erano altre alternative, cioè lui era l'uomo migliore per quello che voleva il mister. Ma non è che Spalletti si è inventato una cosa in particolare, quindi concludendo, per me la Spalletti può fare tutto, ma non è importante che possa fare tutto, anche perché questa cosa è stata ripetuta alla nausea dalle persone che lo conoscono e che sanno che il giocatore può fare tante cose in mezzo al campo. Ma vi ribadisco, perché non pensare ai giocatori come giocatori e non come posizione in campo? E cioè quando arriva un allenatore che vede un giocatore in una data posizione, allora quel giocatore gioca là e gioca anche bene? Cosa c'è di male? Questa è una cosa che vorrei sapere proprio sinceramente da parte di tutti. Allora, secondo me, come al solito, si fa l'errore di pensare ai giocatori come se fossero delle figurine, dei robot. E soprattutto, non so per quale motivo, si ha la convinzione ferrea da parte di tutti che nel calcio ci siano regole e dogmi da seguire. Non ci sono regole nel calcio. Tutti possono avere l'intuizione che va a cambiare la regola. Cioè non è che l'esterno deve avere determinate caratteristiche, perché molto spesso io ho sentito la frase è ma quello l'esterno deve saper dribblare, deve saper fare quello, deve saper fare questo. È in parte vero, ma è anche falso, perché c'è una storia di esterni che non sanno né dribblare né creare superiorità numerica in altri modi. E proprio a Napoli abbiamo una dimostrazione con José Maria Cagliacón che chi mi dice che è un esterno d'attacco ed è stato un esterno d'attacco che dribblava, cioè si sta proprio inventando un giocatore che non è esistito. Che Cagliacón era tutto tranne che un esterno d'attacco che dribblava e creava superiorità numerica. Cagliacón era un genio tatticamente, sapeva posizionarsi sempre perfettamente, giocava sul filo della linea del fuorigioco e faceva dei movimenti killer in area di rigore. Poi era bravissimo nelle diagonali difensive e tecnicamente nei passaggi, nei cross e tutto, pure sottoporta, era sopra la media. Questo è stato José Maria Cagliacón. E aveva una mentalità da top. Però non era un giocatore che dribblava, quindi sentimmi dire che l'esterno d'attacco deve solo dribblare, cioè cozza un po' con la storia del Napoli, perché poi Cagliacón è stato uno degli esterni d'attacco più importanti della nostra storia, soprattutto con De Laurentiis. E quindi... Insignerà uguale, eh? Insignerà uguale. Cioè, quindi, quando mi sento dire queste cose mi starcia sempre il naso, perché non esiste, non ci sono regole nel calcio, non c'è un prototipo di calciatore che quel ruolo deve essere ricoperto per forza da quelle determinate caratteristiche. Non esiste, ci stanno diversi tipi di attaccanti, diversi tipi di difensori, diversi tipi di centrocampisti, diversi tipi di esterno d'attacco. Se no fossero tutto quanto uguali, ragazzi. Cioè, è possibile mai che in un ruolo puoi giocare solo e esclusivamente quei giocatori che hanno quelle determinate caratteristiche? Ua, che bruttezza. Cioè, sono tutto uguale, praticamente. Tutte le stesse squadre ci abbiamo. E quindi, poi, quando poi si va ad analizzare il mondo del calcio in generale, io noto che, cioè, con un certo Pep Guardiola, che mo' è praticamente definito da tutti, ma non da quest'anno, ma da tanti anni ormai, come l'allenatore migliore della storia del calcio, insieme a Danciadotti. E ma, Pep, vi rendete conto che è l'allenatore che più crede in questo ragionamento? Cioè, che non esistono ruoli definitivi per i propri calciatori? Cioè, Pep è quello che ha messo dei difensori centrali, come Stones, a fare i centrocampisti. Poi, Rudy Garcia mette per mezzo, per due minuti, Osticard e centrocampo, e succede il finimondo. Cioè, stiamo parlando di un allenatore che viene giustamente idolatrato da tutti, ma nessuno si rende conto che è molto rivoluzionario. Cioè, lui mette gli esterni da attacco come Terzini, ha messo difensori come centrocampisti, ha messo attaccanti come centrocampisti, ha messo centrocampisti come attaccanti, Gundogan l'ha fatto diventare un trequartista, un altro po', e quello nasceva come regista, un altro po', Gundogan. Quindi, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Poi, lo facciamo noi in Italia, e, wow, che cazzo ti stai inventando? Quel giocatore non può giocare là. Ma dove sta scritto? Cioè, perché i giocatori non possono giocare in altre posizioni? Cioè, se io so che c'è un giocatore che è forte tecnicamente, è forte fisicamente, atleticamente c'è, è intelligente calcisticamente, sa fare la fase offensiva, la fase difensiva, è bravo nei passaggi, è bravo pure negli inserimenti, però fare il difensore centrale, io, in una partita, posso anche pensare di farlo giocare centrocambista, non sta scritto a nessuna parte che può fare solo il difensore centrale. Cioè, un Di Lorenzo, sappiamo tutti le qualità di Di Lorenzo, voi Di Lorenzo non lo mettereste mai in caso di emergenza come difensore centrale, come tra parentesi già è successo, oppure come esterno d'attacco. Cioè, possiamo mai far succedere il 48 ogni volta che si adatta un giocatore ad una posizione? Cioè, ormai è una cosa che è talmente semplice nel calcio che veramente mi meraviglio ogni volta che le persone si scandalizzano quando ci sta un giocatore che viene messo in una posizione che non è la sua principale. Ed è quasi scandaloso perché la strada del calcio è costellata da questi giocatori, da Alam che passa a fare il centrocampista, trequartista a fare il terzino destro, Arrunei che passa da punta, trequartista a regista, Alaba che ha fatto per tutta la carriera, il terzino sinistro, Lala è mai diventato un difensore centrale vero e proprio, quadrato che ha la Juventus non si sa precisamente quale posizione non abbia fatto, forse il portiere. Cioè, la storia del calcio è letteralmente costellata da calciatori che sono capaci di fare più ruoli ed è una forza perché è un elemento di imprevedibilità che l'allenatore può sfruttare, invece da noi è diventato quasi inspiegabile. Dei russi pure, Dei russi non calciatore che alla Roma ha fatto il trequartista, il regista davanti alla difesa, la mezzala, il difensore centrale e nessuno si sarebbe permesso fino a dieci anni fa ed è questo su cui io voglio far riflettere i tifosi italiani di oggi perché l'opinionista ci siamo strunzati, aiuta, lascia stare, però voi tifosi, voi, dieci anni fa non eravamo così, dieci anni fa noi ce l'avevamo la concezione del giocatore che può fare più ruoli, non era scandaloso, quindi ci sta l'allenatore che ti fa giocare questo dato giocatore come attaccante, quest'altro allenatore che te lo fa giocare come esterno, quest'altro allenatore che lo vede mezzala, poi fondamentalmente cosa cambia se il giocatore effettivamente è un professionista che sa fare un pochino tutto, ma perché a noi ci deve ci deve interessare, al limite sì ci può essere l'opinione, quello sono d'accordissimo è l'opinione che tu dici per me questo giocatore è meglio portiere e poi in realtà è un difensore centrale, ci sta, ci sta perché è un'opinione però imborre l'idea che no, vabbè ma Raspadori è un attaccante, basta, non può fare nient'altro in carriera, quando Raspadori ha fatto regolarmente la mezza punta e l'esterno nella squadra in cui è esploso, cioè il Sassuolo, ragazzi dovete arrendere che è una stronzata, pure Spalletti l'ha usato come esterno in alcune partite, quindi di cosa stiamo parlando? dietro a Rosimene l'ha usato, dietro a Rosimene ha appertutto l'ha usato Raspadori, cioè non sta scritto a nessuna parte di giocare solo all'attaccante, lui ha detto che si sente attaccante perché gli piace fare l'attaccante, ma non significa niente, non è che dobbiamo stare a sentire il pensiero dei giocatori, sono sicuro che l'Aspadori se glielo chiedi dice, io gioco dovunque, mi fa piacere giocare ovunque però mi sento attaccante, ma poi vi ricordo un certo Fabian Ruiz che gioco come esterno sinistro contro il Liverpool, esterno sinistro, cioè quindi nemmeno con, non l'ha fatto giocare nemmeno sul suo piede a rientrare, magari per tirare a giro, quindi l'ha fatto giocare in un ruolo esterno sinistro e ha fatto la sua più grande partita forse da quando è stato a Napoli, Elmas che l'abbiamo preso come centrompista e ha fatto tutt'altro a Napoli, l'ha fatto all'esterno, inizialmente è sorcire del naso a tutti quanti, ma ora tutti vi siete abituati che Elmas può giocare da esterno, quindi se un giocatore è duttile ma perché deve fare solo un ruolo? Cioè Raspadori cosa gli manca per non fare l'esterno? Fatemi capire, cioè il dribbling, a parte il fatto che dire che Raspadori non ha il dribbling, cioè non ha il dribbling alla Quara che fa il dribbling in mezzo a tre o a quattro, ma penso che ce l'ha solo Quara e Leao questo dribbling qua, tutti gli altri sono più o meno a livello di Raspadori, quindi uno contro uno Raspadori lo fa tranquillamente il dribbling, non è che non ha proprio questa qualità, questa caratteristica, cioè i dribbling di Raspadori li fa, non li fa come Quara, ma li fa ed è una bugia che non fa dribbling, poi usa bene entrambi i piedi, quindi un esterno attacco usa bene entrambi i piedi, può fare sia il cross di destro che il cross a rientrare di sinistro, quindi un giocatore che è capace di mettere sia palle pericolose in mezzo filtranti oppure tese, è capace di tirare dalla distanza e poi riempie bene l'aria, fa i movimenti giusti, cioè un giocatore intelligente da da soluzioni perché viene incontro, non ha paura di avere l'avversario dietro, viene a dialogare con la mezzala, sta a fare il dialogo con il terzino che sale, quindi che cacchio gli manca a Raspa Dori per fare l'esterno, fatemi capire, cioè cosa gli manca? Non me lo spiego, veramente, eppure riesce pure ad aiutarti difensivamente perché Raspa corre come un pazzo per tutta la gara, ha fatto dei recuperi difensivi con Frosinone e Sassuolo, eccezionali, giocando da esterno, prima a sinistra e poi a destra, quindi di cosa, io effettivamente mi chiedo cosa manca a Raspa Dori per fare l'esterno, solo il dribbling che tramite se non ha bucì, te lo chiedo anche a te Sassuolo, cosa gli manca a Raspa Dori per fare l'esterno? Ma non gli manca assolutamente niente, ma non gli manca assolutamente niente, cioè un giocatore che è agile, è veloce, è sempre stato molto bravo a servire gli assist ai compagni e Scamacca lo sa benissimo perché se fece quei, quanti erano? 15 gol, quasi 20 gol gli fece perché c'aveva Raspa Dori dietro, è un giocatore che cuce il gioco con buona visione di gioco, sembra veramente che dobbiamo sbolognarlo là davanti e poi arrivederci e grazie, ma anche Mertens non ha insegnato niente al calcio di oggi, non ha insegnato niente, un giocatore che per tutta la vita è stato relegato a fare l'esterno perché gli allenatori lo vedevano solo così perché in carriera aveva fatto solo quello, ma io ve lo dico, Mertens per le sue qualità avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, avrebbe potuto fare la mezzala, il trequartista, avrebbe potuto fare l'attaccante e l'ha fatto, ma perché? perché a un certo punto c'è stato un allenatore che non per coraggio, ma per disperazione, perché quella è una disperazione, l'ha dovuto mettere punta, perché altrimenti forse non l'avremmo mai scoperto, Mertens punta, ed è quella la cosa che più preoccupa a me Biazzacu, vi posso dire, a noi non preoccupa l'opinione dell'opinionista, l'opinione del tifoso, perché ci stanno, ci stanno tutte, per quanto magari possano essere sbagliate sulla carta, ma non è un problema, ma il problema è che anche gli allenatori alcune volte li abbiamo visti intransigenti rispetto ai ruoli dei giocatori e sono cose che sono veramente particolari da osservare, ma ce ne sono tanti, è Di Natale che ha cominciato esterno nella sua carriera, poi è diventato una punta da 30 gol in una squadra umile come l'Udinese, per esempio il team proprio qualche giorno fa c'è stata la frase di Enrico Fedele, non so se qualcuno l'ha letta, che ha detto che l'Inström non può fare l'esterno d'attacco perché non ha i 70 metri nelle gambe, a parte il fatto che l'Inström ce li ha i 70 metri nelle gambe perché è una bestia atleticamente parlando, è fortissimo, l'ha fatto, l'ha fatto pure vedere più e più volte pure in Europa, ma poi l'esterno d'attacco deve avere solo i 70 metri nelle gambe, allora Grealish tene 70 metri nelle gambe, Grealish, non mi pare, non mi sembra proprio, Bernardo Silva tene 70 metri, sono tutti quanti corridori incredibili, non mi pare, cioè il fatto che ritorniamo sempre allo stesso discorso, l'esterno ha solo determinate caratteristiche, se non sei, se non hai la corsa, il dribbling e tutte queste cose non lo puoi fare, è una stronzata, ragazzi, è una cagata, è una cagata, non si può proprio sentire, veramente non si può proprio sentire, non vi offendete, ovviamente ognuno può pensarla come vuole, però relegarsi su un pensiero senza avere il quadro completo della situazione è insopportabile, è giusto avere la propria opinione, perché pure io posso dire di vedere Raspadori in una posizione più di un'altra, ma il giocatore c'è ed è un calciatore che può fare più ruoli e questo è indubitabile, a me può piacere più di un altro, ma questo non vuol dire che lui non lo possa fare e poi c'è anche l'allenatore, cioè c'è l'allenatore che magari lo fa rendere o non lo fa rendere, ma indipendentemente però dal valore del giocatore, noi in casa ce l'abbiamo tantissimo, gli esempi, Rachmani che non rendeva perché non giocava, lo stesso lo stesso Lobotka che non giocava e poi con altri con altri allenatori giocano e rendono, quindi non è la posizione molto spesso che incide sul valore di un calciatore perché un calciatore se è impiegato in un sistema che funziona e lui sta bene generalmente gioca bene sempre, se è un professionista, cioè il suo lo fa sempre, poi la posizione è una cosa su cui dipende. Ma poi ragazzi ammettiamolo e se non lo ammettete è malafede perché non si può non ammettere ma se Raspa in queste prime partite come per tanto così poteva anche riuscirci entrava quel tiro sul primo palo che ha preso il palo pieno tanto così non è entrato poi quelle due occasioni che ha avuto a Frosinone che il portiere ha fatto il miracolo e è stato pure sfortunato e il calcio di rigore è sbagliato cioè Raspa aveva forse due o tre gol già all'attivo e pure un paio d'assist e che cosa si sarebbe detto di Raspa? Intuizione di Garcia che l'ha fatto giocare da esterno così riesce a sfruttare tutte le sue qualità riesce a dialogare bene con Osimène io sono sicuro che avrebbero detto così tutti tutti dai giornalisti per esempio l'ha già dimenticato i primi due mesi di Insigne punta nel 4-4-2 di Ancelotti i primi due mesi di Insigne segnava un cuofono tanto mi ricordo ancora la frase è perché quello poi di Insigne tu gli togli i compiti difensivi e quindi è più lucido sotto porta quindi riesce a segnare più facilmente quindi tutti quanti erano innamorati del nuovo Insigne da punta poi improvvisamente ha smesso di segnare e tutti quanti hanno addirittura preso per il culo Ancelotti per aver avuto quest'idea la malsana di mettere Insigne su quella cosa il giocatore si fece anche convincere perché poi Insigne davvero iniziò a pensare che lui non giocasse più allo stesso livello non segnasse più che altro perché non faceva più l'esterno quando Insigne e chi ha visto la sua carriera sa benissimo ha sempre vissuto di momenti quindi ti faceva quei due mesi dove segnava raffica poi te ne faceva due dove non riusciva proprio a trovare la via del gol e poi ricominciava quindi la posizione è sempre stata irrilevante a Insigne Insigne è stato semplicemente un giocatore nella sua carriera discontinuo non da 10 consecutivi ad altissimi livelli ci sta era così ce ne sono tantissimi di giocatori del genere anzi si può dire che la stragrande maggioranza dei calciatori di oggi vivano di momenti non è normale però la la sua mossa popolare e mediatica fu così tanto potente che convinsero anche lui convinsero anche lui che inizialmente io ricordo perfettamente ve le potete andare a ritrovare le interviste tanto si trovano disse che lui era molto soddisfatto del suo nuovo ruolo perché a quanto pare lo stava facendo rendere bene quindi poi non può diventare quello il motivo per cui stai andando male perché se stavi facendo bene evidentemente è cambiato qualcosa in te no ma infatti io concluderei dicendo ragazzi la verità che se un giocatore è forte è forte ovunque cioè non c'è questa posizione che che tenga cioè se un giocatore è forte è forte in qualsiasi posizione non esiste proprio il pensiero che se io prendo messi e lo faccio giocare da centrocampista diventa scarso no magari non ti fa 8 i 30 gol ma non può essere scarso non può essere scarso cioè se un giocatore è forte è forte a prescindere cioè non è che uno diventa forte o scarso in base alla posizione levatevelo proprio dalla testa quindi Raspa se rende da punta ed è forte da punta lo fa pure da esterno perché è forte è un giocatore forte il gol che ha fatto bellissimo contro la Juventus l'ha fatto quando è entrato al posto di Quara se avessi giocato da centrale non lo facevo il gol non lo faceva poi perché poi il pensiero sempre legato a Quara io ma ultimamente sto sentendo Quara potremmo farlo giocare da trequartista perché secondo me può rendere meglio trequartista perché da esterno ormai lo triplicano sono tutti pensieri legittimi non sto dicendo che state sbagliando il pensiero il ragionamento però perché per Quara va bene e per gli altri giocatori no fatemi capire cioè Quara può cambiare ruolo addirittura c'è gente che è sicurissima che poi da trequartista riesce a fare meglio da esterno quando prove non ce ne sono perché da esterno ci ha fatto vincere uno campionato e Quara però io posso accettare il pensiero perché nel calcio non ci sono regole ripeto non ci sono regole ognuno può avere l'intuizione geniale che magari va proprio a ribaltare da così a così il pensiero comune della gente quindi perché con Quara possiamo avere il ragionamento addirittura di farlo giocare seconda punta e trequartista e il rush panoci vi facciaci strappiamo i capelli se lo facciamo giocare a esterno non ha senso non ha per niente senso è veramente sputare sulla storia del calcio questa cosa va bene ragazzi questo video finisce qui fateci sapere cosa ne pensate voi con un commento lasciate un like se il video è piaciuto ovviamente iscrivetevi perché in questo canale si deve fare questo non vi offendete quelli che non la pensano come noi perché noi facciamo questi video per discutere e parlare di calcio per confrontarci va bene ok ci vediamo in un prossimo video ragazzi e forza Napoli sempre